L'erogazione dei fondi dipenderà dall'approvazione da parte del Consiglio europeo ed è importante che questo avvenga in modo rapido ed efficace. L'approvazione del piano italiano da parte della Commissione, confermata dalla Presidente von der Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, conferma il grande lavoro svolto dal nostro Paese. Abbiamo messo insieme un piano ambizioso di riforme e investimenti e lo abbiamo fatto con la collaborazione degli enti territoriali, delle parti sociali e del Parlamento, che tengo qui a ringraziare. Il vostro ruolo come Parlamento sarà fondamentale durante tutta l'attuazione del piano. Come ho avuto modo di dire ieri alla Presidente von der Leyen, l'approvazione da parte della Commissione è infatti soltanto il primo passo. Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo per avviare i progetti di investimento previsti e per portare avanti l'agenda di riforme. Gli occhi dell'Europa sono sull'Italia. Il nostro è infatti il programma più di sostanza, più grande, per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare. Il successo del programma Next Generation EU dipende in larga parte da noi. Grazie. Grazie.